Durante i controlli alle strutture extraalberghiere di Bologna, la Guardia di Finanza ha scovato un'affittacamere che dal 2017 ha omesso di dichiarare circa 600.000 euro di ricavi. L'attività ricettiva gestiva sei camere ed operava su piattaforme di prenotazione online, rivolgendosi in gran parte a turisti stranieri, forte della posizione centrale della struttura. L'attività d'indagine dei finanzieri ha consentito di intercettare una quota di locazioni brevi in nero pari a circa il 50% della complessiva operatività dichiarata. Grazie a tutti.